amici sportivi amici fantacalcisti bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video allora ragazzi vi faccio i pronostici per quanto riguarda le formazioni da schierare nella 27esima giornata della serie a settimana scorsa qualche consiglio buono l'ho dato qualcuno è andato a segno per esempio mi viene in mente tamezza del verona che ve l'avevo consegnato consigliato ed è andato a segno quindi tutto sommato diciamo che la scorsa giornata è andata bene vediamo se anche questa settimana riuscirò a farvi dei buoni consigli partiamo con la prima partita che è milan udinese allora io vedo intanto due squadre che devono hanno obiettivi diversi ma li devono raggiungere ancora il milan per lo scudetto l'udinese per la salvezza l'udinese fa fatica a segnare quindi io schiererei qualche giocatore tre nomi vi do beccao perché è un giocatore che spesso fa gol al milan e quindi potrebbe ancora andare a segno in questa partita ma non è detto molina perché un giocatore che mi piace particolarmente e poi deulofeo perché è un ex quindi potrebbe potrebbe rispettare la legge del gol dell'ex nel milan schiererei invece magnan che anche se settimana scorso ha avuto un'indecisione sul gol della selernitana per me rimane sempre una sicurezza teo hernandez poi tonali che sì sicuramente perché uno batte punizioni e calci d'angoli l'altro batte i rigori e poi secondo me sarà un po' una partita tirata quindi non schiererei nessuno del trio messias di azleao ma magari stare più su girù perché probabilmente una palla da fermo un calcio di punizione potrebbe sbloccare questa partita e dare la vittoria o almeno il gol ai rossoneri passiamo alla prossima partita che si gioca mi raccomando ragazzi è si parte venerdì quindi si parte venerdì alle ore 18 e 45 quindi attenti a schierare la formazione per tempo detto ciò genoa inter allora nel genoa schiererei sicuramente destro che il giocatore migliore del genoa in questo momento l'inter sta prendendo parecchi gol e quindi destro potrebbe andare a segno e poi van oisden che anche qui è un ex della partita un buon giocatore secondo me magari nella squadra sbagliata in questo momento però magari può segnare anche lui potrebbe giovare di questa regola del gol dell'ex che non so perché ma esiste per quanto riguarda l'inter attenzione perché l'interno mi sta piacendo tanto è un po fuori forma quindi sicuramente Lautaro e Sanchez perché Lautaro prima o poi deve segnare e Sanchez comunque quest'anno ha dimostrato di poter fare qualcosa in più sicuramente Brozovic che rientra dalla squalifica e sarà più fresco di altri giocatori Perisic sicuramente Dunfres che mi sono piaciuti e della difesa stare attento non schiererai nessuno quindi ecco questi sono i giocatori che vi consiglio per questa partita Salernitana Bologna Allora la Salernitana che ci sta provando a salvarsi 6 punti nelle ultime 6 partite di sicuro è una squadra che sta segnando arriva da 4-5 partite di fila in cui segna e quindi vi consiglio Ribery, Djuric e Bonazzoli c'è da dire che prende anche tanti gol quindi del resto della Salernitana non vi consiglio nessuno Per quanto riguarda il Bologna sicuramente visto il discorso appena fatto nessuno della difesa ma Barro, Arnautov e Cersolini assolutamente metteteli dentro perché uno dei tre potrà fare almeno un gol alla Salernitana Empoli, Juventus allora attenzione qui perché l'Empoli sta andando male quest'anno cerca ancora la prima vittoria nel 2022 e la Juventus è una squadra che secondo me sta facendo molto bene invece al contrario dell'Empoli stanno facendo un po' un percorso inverso a livello di campionato quindi sicuramente possiamo schierare qualcuno della difesa della Juve probabilmente Quadrado che è un giocatore che spinge molto e che tante volte ci offre anche assist e gol possiamo schierare Cersni perché non so se l'Empoli segnerà e quindi probabilmente potrà chiudere la partita con nessun gol subito e poi sicuramente Vlaovic e Morata perché Vlaovic è un grandissimo giocatore Morata lo è anche secondo me e contro l'Empoli che non è in forma potrebbe anche segnare la prossima partita è Sassuolo-Fiorentina allora queste due squadre che sono molto molto in forma di sicuro possiamo schierare del Sassuolo, Berardi, Raspadori, Scamacca e Traore perché sono giocatori che in questo momento vivono un ottimo momento di forma per quanto riguarda la Fiorentina sicuramente Piontek che sta facendo molto bene ma anche Sottile e Gonzales secondo me potranno dire la loro in questa partita dove credo che ci saranno dei gol, dove credo che ci sarà uno scenario molto aperto e quindi sicuramente anche Bonaventura metterei dentro, Biraghi e Odriozola quindi vedo una buona Fiorentina in questo momento, schiererei tanti giocatori di questa squadra la prossima partita è Torino-Cagliari, ecco qua vedo una partita un po' più tirata perché il Cagliari soprattutto deve salvarsi il Torino è una squadra che non segna molto ma ha ritrovato Belotti e quindi è una partita un po' strana, un po' indecifrabile da una parte la voglia del Cagliari di salvarsi dall'altra quella di un Torino che comunque sta facendo una buona stagione e in casa difficilmente ha perso colpi l'ultima volta è successa col Venezia e quindi sarà molto difficile che risucceda col Cagliari detto ciò, detto ciò, mettiamo sicuramente Bremer che è una certezza del Torino Pobega lo possiamo mettere e Belotti, vi do questi tre nomi perché secondo me il Gallo ha voglia di riscatto e prima di lasciare il Torino a fine stagione se lo lascerà, di lasciare un bel ricordo comunque per quanto riguarda il Cagliari, facciamo affidamento su Cragno Bellanova che secondo me è un bel prospetto e poi Joao Pedro, vi do questi tre nomi per il Cagliari che potranno fare secondo me la differenza in questa partita Passiamo alla prossima partita che è Spezia-Roma e attenzione qua perché la Roma ha dimostrato spesso di poter subire gole e a volte anche perdere queste partite contro questo tipo di avversari lo Spezia che deve salvarsi, 26 punti sicuramente farà di tutto farà di tutto per vincere questa partita anche perché ha già dimostrato di non aver paura di nessuno quindi dentro Verde, dentro Maggiore, dentro Giasi e dentro Nzolà per quanto riguarda la Roma direi di puntare su Abram Pellegrini, Oliveira e forse potrei anche tentare la sorpresa Smalling perché Smalling è un giocatore che spesso segna come vedete Cristante probabilmente sarà schierato in difesa e quindi lascerei stare questa volta Cristante non lascerei stare Verona-Venezia derby Veneto questo qua e attenzione anche qui perché il Venezia deve salvarsi nella stessa situazione del Cagliari con 22 punti arriva da 4 punti in due partite e devo dire che secondo me anche qua parliamo di una squadra che gioca abbastanza bene e che non ha paura quindi sarà molto difficile capire chi andrà in Serie B quest'anno dentro Okereke ed Henry perché il Verona è una squadra che spesso lascia il fianco all'avversario però mettiamo dentro anche Barak, Caprari e Simeone e Tamezze che ve l'ho consigliato la settimana scorsa quindi il Verona è una squadra che segna e prende gol quindi dentro gli attaccanti di tutte e due le squadre un po' meno puntiamo sulle difese per quanto riguarda questa partita che è molto interessante invece Lazio-Napoli parliamo di due squadre che arriveranno da un impegno europeo quindi abbastanza affaticate però c'è anche da dire che sono le due squadre più in forma del campionato con un gol subito dalla Lazio e tre gol subiti dal Napoli quindi sicuramente possiamo tentare di mettere Koulibaly e Di Lorenzo da una parte perché credo che siano due certezze più Fabian Ruiz, Zilinski e Mertens che credo possano fare la differenza in questa partita per quanto riguarda la Lazio direi sicuramente di mettere Isai che è una vecchia conoscenza del Napoli quindi potrà beneficiare anche qui della regola del gol dell'ex e chi lo sa Milinkovic, Savic, Felipe Anderson, Zaccagni per quanto riguarda invece gli altri giocatori direi di no di non mettere più nessuno chiudiamo con Atalanta-Sampdoria che è la partita del lunedì e anche qui dobbiamo fare molta attenzione perché l'Atalanta arriverà da uno scontro europeo con l'Olympiakos che giocherà questa sera oggi è giovedì mattina e questa sera gioca l'Atalanta quindi di sicuro arriverà affaticata aggiungiamo anche il fatto che l'Atalanta non sta vivendo un ottimo momento in campionato e quindi chi schieriamo di questa squadra? non saprei, onestamente vi dico la verità non lo so starei molto attento se avessi qualche giocatore dell'Atalanta probabilmente lo terrà in panchina per questa partita al contrario invece nella Sampdoria direi di puntare ancora su Sensi Quagliarella e Caputo che stanno facendo molto bene per quanto riguarda il resto dei giocatori forse potete mettere uno tra Dall e Torsby però sono soliti prendere cartellini quindi anche qui direi attenzione in difesa magari Conti potrebbe offrire qualche assist ai suoi compagni di attacco e quindi direi di puntare magari su Conti se ce l'avete tra i vostri giocatori va bene ragazzi abbiamo finito mi raccomando ci sono due semplici regole da osservare schierare la formazione per tempo e schierare un 11 che possibilmente scenda tutto in campo per il resto un po' di fortuna e un po' di culo servono sempre al fantacalcio vi auguro intanto buona fortuna iscrivetevi al canale lasciate un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video ciao